Settimo con 258 punti e 45 a guidare il solito Marsaglia della Marina Militare di Roma con 316 e 90 Poi Francesco Porco, casse 99 con 291 e 45, terzo Timbretti che veramente sta facendo bene, 281 e 40 e Aubert dicevamo solo settimo, Rinaldi ottavo con 241 e 35 quindi forse si aspettava qualcosina di più da questa coppia che abbiamo visto anche nel sincrono Ricominciamo da Matteo Caffiero e Stefano Belotti, doppio e mezzo indietro Carpiato per loro il N205B, oltre ai finali 5 che stiamo seguendo, il programma di questi assoluti prevede tutte le specialità individuali con un format di due turni, una fase eliminatoria che premia i primi 8 per poi passare alle finali, dunque all'atto conclusivo e abbiamo già visto le finali per quanto riguarda i 3 metri dal trampolino femminile e la piattaforma 10 metri maschile e abbiamo visto anche il tuffo di Caffiero Belotti con un sincrono così e così 6, 6 e mezzo Trova la combinazione giusta